Molti mistici Hanno predetto un evento chiamato l'avvertimento O hanno preannunciato tre giorni di buio In particolare l'avvertimento è stato descritto dettagliatamente Da Concita Gonzales, la veggente di Garabandal Secondo quanto le svelò la Madonna nell'apparizione del 1 gennaio 1965 Fa paura per buoni e cattivi Ai buoni servirà per avvicinarli di più a Dio Ai cattivi per avvisarli che arriva la fine dei tempi Sarà visibile nel mondo intero Per tutti, in qualsiasi luogo essi siano Sarà come una rivelazione dei nostri peccati Lo sentiremo tutti nello stesso momento Ma ognuno lo sentirà in maniera diversa Poiché dipenderà dalla coscienza di ciascuno E i peccati personali sono diversi Sarà un fatto molto personale Per questo ognuno di noi reagirà in modo diverso La cosa essenziale sarà riconoscere i propri peccati E le loro cattive conseguenze In che cosa possa concretamente consistere Ce lo fa ipotizzare una visione di Santa Faustina Kowalska Una volta venni citata al giudizio di Dio Vidi immediatamente tutto lo stato della mia anima Così come la vedeva il Dio Vidi chiaramente tutto quello che a Dio non piace Poi, secondo la profezia della Madonna data a Mariloli Mazon Sempre nell'apparizione di Garabandal Entro 12 mesi dall'avvertimento avverrà un miracolo Forse qualcosa legato al sole o a un corpo celeste E un segno sarà visibile nei luoghi in cui la Madonna è veramente apparsa Santa Faustina Kowalska scrisse nel 1928 Prima che giunga il giorno della giustizia Sarà dato agli uomini questo segno Si spegnerà ogni luce in cielo E ci sarà una grande oscurità su tutta la terra Allora apparirà in cielo il segno della croce E dai fori dove furono inchiodati i piedi e le mani del Salvatore Usciranno grandi luci che per qualche tempo illumineranno la terra In effetti diversi mistici hanno preannunciato tre giorni di tenebra in tutto il mondo Durante i quali non ci saranno alcuna consolazione se non la preghiera e il sacrificio Anna Maria Taigi a fine Settecento avrebbe avuto una simile permonizione Verrà sopra la terra l'oscurità immensa che durerà tre giorni e tre notti Nulla sarà visibile e l'aria sarà nociva e pestilenziale e recherà danno Sebbene non esclusivamente ai nemici della religione Durante questi tre giorni la luce artificiale sarà impossibile Arderanno soltanto le candele benedette In particolare l'anima vittima Marie-Julie Genie Fu la destinataria di numerosi messaggi su questa tematica Uno dei segnali che dovranno farci capire Che la collera divina si sta per abbattere Scrisse sarà l'oscuramento del sole Quando calerà il buio si susseguiranno tre giorni di tenebra continua In questo periodo tenebroso appariranno i demoni in forma abominevole E faranno risuonare ovunque le loro bestemmie La certezza finale è comunque quella che più di sei secoli fa Gesù propose alla mistica inglese Giuliana di Norwich Così il Signore rispose a tutte le domande e a tutti i dubbi che io potevo esprimere Dicendo con tono sommamente confortevole Posso portare ogni cosa al bene Sono in grado di portare ogni cosa al bene Porterò ogni cosa al bene Voglio portare ogni cosa al bene E vedrai tu stessa che ogni specie di cosa sarà bene Quello che è impossibile per te non è impossibile per me Io manterrò la mia parola in ogni cosa E trasformerò in bene ogni cosa Disse Gesù Grazie a tutti Grazie a tutti